Non ne ho parlato la settimana scorsa quando sono trapelate delle indiscrezioni, o meglio l'ho fatto con un post su Instagram, ma adesso è giunto il momento di fare questo video perché la notizia è ufficiale. Harry Potter diventerà una serie tv. È stato annunciato pochissimo fa con un video sui canali ufficiali, e adesso parleremo anche di quel video perché ha degli spunti interessanti. Nel momento in cui sto registrando non ci sono state date chissà quante informazioni rispetto alle notizie trapelate appunto qualche giorno fa, ma Harry Potter sarà adattato sotto forma di serie televisiva sul canale streaming Max. Come ha dichiarato, la stessa Rowling sarà un adattamento fedele ai romanzi, e la stessa autrice sarà una produttrice esecutiva e supervisionerà il progetto creativo. Come è stato già detto, probabilmente avremo una stagione per ogni romanzo, e quindi una serie da sette stagioni in totale, ma le varie notizie già uscite e quelle che usciranno potete leggerle ovunque. Io sono qui per dirvi cosa ne penso. Sono molto legato alla saga cinematografica, come penso chiunque della mia generazione. Io sono del 91, e in pratica quando uscì il primo film di Harry Potter avevo 11 anni, e quindi mi sono fatto tutta l'adolescenza leggendo i libri di Harry Potter e guardando i relativi film. Questa saga, anche cinematografica, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Però, a detta di tutti, e io penso la stessa cosa, i film hanno tanti errori, tante mancanze rispetto ai sette romanzi. Tante cose importantissime sono state parzialmente o totalmente tralasciate nei film, e come ho detto nel mio post su Instagram, la trilogia del Signore degli Anelli non puoi toccarla. Gli otto film di Harry Potter, sì. E questo è quello che penso sulla questione passaggio da film a serie tv. La serie tv ti permette di approfondire molto di più, sia i personaggi che le relative storie. Avremo probabilmente e finalmente un adattamento degno di quella bellezza di romanzo che è Il Principe Mezzosangue, è il mio preferito, ma... ma... c'è un grosso ma. Perché c'è da guardare la questione sotto tanti punti di vista. Non ve l'ho detto, ma ci sarà un cast totalmente nuovo, come giusto che sia, quindi dovremmo abituarci a vedere sullo schermo gente diversa da i protagonisti che conosciamo. E non sarà per nulla facile, soprattutto con alcuni personaggi, come ad esempio mi vengono in mente Hagrid e Piton. E l'altra questione che mi viene in mente attualmente, sia anche il lato musica, ma soprattutto il lato scenografie. Quindi location, set design e tutto quello che rientra in questa categoria. Perché vi dico questo? Perché il video con cui Warner ha annunciato ufficialmente la serie tv di Harry Potter utilizza il tema musicale di Williams, quello famosissimo e facilmente riconoscibile da chiunque nel mondo, e sullo sfondo il castello di Hogwarts che conosciamo. Quindi, questo annuncio con quella musica e con quello sfondo è fatto per arrivare immediatamente con la notizia bomba a tutti? O probabilmente il cast sarà nuovo, ma molte cose che già conosciamo, che già abbiamo visto, ce le ritroveremo di nuovo? Brutta detta così, nel senso... Dobbiamo tenere presente, infatti, che esiste un parco di Harry Potter che attira tantissima gente, così come esistono gli studios a Londra che attirano tantissima gente. Ora, se fanno una serie reboot con un cast nuovo, con location nuove, parco e studios? Così, rimangono lì sospesi? Quindi probabilmente vedremo cast nuovo, storia della saga, dei romanzi, inseriti però in luoghi e probabilmente con sottofondo musicale che conosciamo bene. Questo è il pensiero che mi viene in mente in questo momento. È una cosa che vedremo poi col tempo, magari verranno date altre notizie in questi giorni. Ripeto, io ho letto la notizia e mi sono messo qui davanti alla fotocamera. Che poi ho menzionato praticamente soltanto location e set, ma c'è tutto un merchandising dietro Harry Potter, quindi non parliamo di fesserie o di roba da nulla. Cioè, tutta questa roba porta soldi alla Rowling e alla Warner. Quindi non so se riguarderà anche gli oggetti di scena, quello probabilmente no. Sicuramente la parte reboot non riguarderà gli oggetti di scena, non converrebbe, perché ne venderebbero altri nuovi. Però, ripeto, secondo me la Hogwarts, come la conosciamo, non l'abbandoneranno. La cosa potrebbe valere anche per Diagon Alley, che sono i due luoghi principali e simboli di Harry Potter. Quindi la notizia per i fan di Harry Potter, soprattutto dei libri, è bella. Avremo probabilmente un adattamento preciso, fatto bene, accurato, dei romanzi. E lo guarderò con molta curiosità quando arriverà. Calcolate che sono ancora alla ricerca di un capo sceneggiatore, e quindi siamo agli albori. Ci vorrà un sacco di tempo, io credo almeno 2025. Però guardando anche il rovescio della medaglia, ok, avremo un adattamento fedele dei romanzi, ma sono cose che già conosciamo. Quindi dovranno essere molto bravi a fare un prodotto bello. E chissà, magari, perché la serie tv lo permette, andranno ad aggiungere qualcosa. Per esempio, per la Pietra Filosofale, fare una stagione, quello è. Pietra Filosofale e Camera dei Segreti, diciamo che tra i film sono quelli adattati un pochino meglio. Probabilmente verranno aggiunte altre cose, il che sarebbe un bene. Scusatemi, non avendo scritto nulla, mi vengono cose in mente e le sputo, praticamente. Vi ho dato più o meno la mia idea riguardo questo annuncio ufficiale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi, se siete felici di un reboot della saga, o se per voi è troppo presto. Oddio, presto, sono passati più di vent'anni. Cacchio.